Salve a tutti e benvenuti al canale bellezza 2.0 Allora, piccola premessa, mi chiedono in molti cosa tratta bellezza 2.0 Ah, della bellezza in generale, parleremo un po' di tutto Vi darò qualche dritta, vi farò vedere delle cose, parleremo di tante cose E quindi, per quanto riguarda la bellezza, è lo stare bene a livello sia fisico che mentale Prima di iniziare, vi voglio ricordare di attivare la campanella Ora, non so bene dove sarà posizionata Per rimanere aggiornati ogni volta sui prossimi video Naturalmente, se vi è piaciuto, un bel like E andiamo Allora, cosa sono gli esercizi di posturale? Nel video precedente abbiamo parlato della respirazione diaframmatica e della sua importanza Associata alla respirazione diaframmatica c'è la posturale Molti di voi sicuramente la avranno potuta magari provare nelle palestre O assistere a qualche seduta di essa Allora, la posturale di solito viene associata a un trattamento solo, esclusivamente Per migliorare il dolore di schiena, l'area della cervicale Chi ha magari avuto delle operazioni di ernia al disco Quindi per recupero, eccetera, eccetera Che cosa succede? La posturale, gli esercizi di posturale servono a dare delle posizioni corrette al nostro corpo Perché noi assumiamo, tutti quanti noi assumiamo Per colpa del lavoro, dello stress Ma anche per le nostre caratteristiche fisiche Assumiamo posizioni troppo sbagliate Queste posizioni sbagliate Che cosa vanno a incidere? Ci sarà un disallineamento dei segmenti del nostro scheletro Quindi avremo delle complicazioni Quindi un dolore fastidioso Come le contratture Cosiddette contratture Però non solo quelle Potremmo anche avere delle compressioni A livello dei polmoni, dell'intestino, del cuore Quindi, se attuiamo Non dico tutti i giorni O comunque, quando avremo tempo di farlo Dato la nostra vita frenetica Attuare Respirazione diaframmatica Insieme a qualche esercizio di posturale Ogni mattino, quando si ha tempo I benefici Avremo una tonicità nel muscolo Innanzitutto E nelle articolazioni anche Previene le contratture Avremo anche un allungamento muscolare In più, se attuiamo anche la nostra bellissima e profonda respirazione diaframmatica Andremo anche a favorire la concentrazione Il rilassamento E stimoleremo tutto il nostro metabolismo Bene Questo è il mio consiglio sulla posturale I prossimi video vi farò vedere anche qualche esercizio Piccoli esercizi che vi possono cambiare la vita La nostra vita è già frenetica Si pensa solo al lavoro Ma alla nostra salute Quindi, diamoci da fare E al prossimo video E ricordate E like e la campanella Ciao Grazie a tutti.